finisce qui, finisce qui il Napoli batte il Modena 4-3 ai rigori una partita sofferta o meglio una partita che non siamo riusciti a sbloccare che è rimasta sullo 0-0 per tutti i 90 minuti una partita che il Napoli ha giocato costantemente in attacco anche se il Modena ha avuto delle occasioni importanti prima su tutti una traversa del numero 10 ma anche altre ripartenze importanti ma in ogni caso ragazzi il Napoli ha chiuso il Modena nella sua area di rigore per tutto il tempo però ragazzi è vero che il Napoli ha assediato il Modena però è mancata qualità questa è stata la prima partita ufficiale del Napoli di Conte si conclude con una vittoria molto molto sofferta, molto molto tirata il Napoli passa ai 32esimi di Coppa Italia e si qualifica ai 16esimi e sfiderà una fra Palermo e Parma ragazzi il Modena è una squadra certamente modesta ma è una squadra che si è difesa molto molto bene che ha chiuso tutti gli spazi possibili per quanto riguarda l'analisi dei giocatori secondo me uno dei migliori è stato Spinazzola che è stato sempre molto propositivo ha fatto molte accelerazioni sulla fascia e anche molte giocate importanti un altro che mi è piaciuto soprattutto per i ripiegamenti difensivi è stato Apolitano anche lui mi è piaciuto mi è piaciuto moltissimo anche lo Botka che come al solito ha toccato moltissimi palloni ed è stato fondamentale a centrocampo tra quelli che invece non mi sono piaciuti il primo è Anghissà che non ha fatto una partita super qualitativa anche Ingonge quando è entrato non ha dato la giusta carica al contrario ha sbagliato molti passaggi e ha commesso diversi falli quindi Ingonge non mi è piaciuto come è entrato Raspadori anche non ha fatto una partita saltante e non mi è piaciuto sinceramente neanche Cavaraschelia che in molte occasioni è stato troppo egoista e troppo frettoloso nel tirare diciamo che Cavaraschelia deve imparare a passare di più la palla a legare più gioco con i compagni Simeone invece è entrato bene fin da subito ha dato tutta un'altra cosa rispetto a Raspadori quindi anche lui è stato un giocatore importante però ragazzi manca la punta manca la punta e deve arrivare questo Benedetto centravanti Osimen ormai è furirosa non è nei piani di Conte deve arrivare Romelu Lukaku deve arrivare un attaccante veloce un attaccante fisico un attaccante imponente che la butti dentro deve arrivare un attaccante grosso e veloce come Lukaku perché non possiamo andare avanti con Raspadori che è troppo basso e Simeone che non è adatto al gioco di Conte bisogna comprare un centravanti fisico e veloce e l'ideale è Romelu Lukaku deve arrivare un centravanti perché in queste condizioni il Napoli non riesce a segnare che dire ragazzi il Napoli passa i 32esimi una partita sofferta vinta ai rigori grande prestazione di Meretto non tanto nei 90 minuti quanto nei rigori ne para ben 2 su 5 e ne sta parando anche un terzo quindi ragazzi che dire prestazione nel complesso buona nel senso che il Napoli è stato molto propositivo però negli ultimi metri è mancata la lucidità è normale siamo ad agosto manca ancora un po' all'inizio del campionato è normale essere un po' stanchi non essere al top però bisogna migliorare soprattutto bisogna fare i giusti investimenti sul mercato la squadra è ancora incompleta e ha bisogno di essere completata il prima possibile ci vediamo in un prossimo video ragazzi e sempre Forza Napoli